buona giornata siamo al venerdì santo e concludiamo questa mattina o in questa giornata il nostro corso di esercizi spirituali tenendo presente che il tema dal quale siamo partiti è quello che ci sta guidando in tutto tutti questi a settimana santa è l'amore è tutto e allora chiediamo ancora una volta prima di iniziare la forza di cogliere il significato dell'esperienza di gesù in questo mondo attraverso l'amore dello spirito santo che ci aiuta a credere come tutto quello che è successo a gesù non è nient'altro che il modo di farci comprendere che questo è l'unico vero modo di amare e allora iniziamo nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen spirito santo aiutaci a portare i pesi gli uni degli altri perché sappiamo uscire dal nostro piccolo mondo per entrare nel mondo dell'altro e ci rendiamo capaci di condividere la povertà le angoscia e i fallimenti dei nostri fratelli spirito santo aiutaci a portare i pesi gli uni degli altri perché dal nostro spirito dal nostro volto si irradi sempre dolcezza e gioia quando serviamo gli altri spirito santo aiutaci a portare i pesi gli uni degli altri perché impariamo a ringraziare coloro che aiutiamo in quanto proprio per mezzo di loro noi possiamo concretamente seguire gesù spirito santo aiutaci a portare i pesi gli uni degli altri perché ci sentiamo solidale con tutti specie con i più poveri con quelli che nessuno ama e sappiamo andare al di là dei nostri pregiudizi e allora ascoltiamo questo brano del Vangelo che sono i primi 19 versetti del capitolo 17 di San Giovanni non lo commenterò tutto farò degli stralci anche perché sta arrivando il tempo del silenzio il tempo della contemplazione del crocifisso allora mi interessa chiudere solamente con alcune riflessioni che possiamo condividere assieme dal Vangelo secondo Giovanni così parlò Gesù poi alzati gli occhi al cielo disse padre è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscono te l'unico vero dio e colui che hai mandato Gesù Cristo io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai da te che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscite da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo e io vengo a te padre santo custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione perché si compisse la scrittura ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia io ho dato loro la tua parola il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo consacrali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anch'io mando loro nel mondo per loro io consacro me stesso perché sono anch'essi consacrati nella verità allora vorrei fare solo davvero molto semplice alcune sottolineature questa è la bellissima preghiera di gesù e incomincia con un nome padre quando noi sentiamo questo nome dobbiamo avere il cuore che si apre alla speranza perché il tema del brano è la gloria e la gloria è proprio questa cosa che tutti noi incontriamo il padre la preghiera che gesù fa è un dialogo tra lui figlio e il padre quante volte abbiamo detto anche tra di noi come facciamo a pregare bisogna avere la semplicità di chi parla con il papà e come i figli tante volte intervengono nella vita del papà o della mamma solamente quando ne hanno bisogno così facciamo tante volte noi nella preghiera diciamolo tra di noi un po ci dimentichiamo del padre ma poi ogni tanto ci viene in mente che tra noi e dio c'è una comunione così profonda per cui l'essenza di dio che è padre è espressa nel figlio allora la questa comunione profonda tra il padre e il figlio ci fa accogliere come ciascuno di noi è anche lui il figlio di questo padre padre è venuta l'ora ecco siamo all'ora l'ora della gloria della glorificazione siamo nell'ora in cui tutto si svelerà l'ora che è stata attesa da gesù per tutta la sua vita l'ora che i suoi discepoli aspettavano perché ogni tanto si sentivano dire non è ancora giunta la mia ora ma qual era quest'ora qual è quest'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio tuo ha glorificato te e la glorificazione di dio in quest'ora è l'accogliere la bellezza dell'essere in croce per noi voi sapete che io sto leggendo dei libri molto strani tipo per esempio la salita al monte carmelo di san giovanni della croce ecco la bellezza di stare sulla croce di essere la gloria di dio noi non riusciamo a capire questa cosa forse in alcuni momenti riusciamo a intuirla probabilmente molto spesso rifiutiamo la croce ma perché gesù non l'ha voluta gliel'hanno messa addosso poi lui l'ha accolta come il segno del suo amore come il segno della gloria di dio questa è l'ora è venuta l'ora il signore finalmente dice non ai suoi discepoli che non avrebbero ancora capito perché non era ancora morto non era ancora risorto ma lo dice a dio al papà e gli dice papà finalmente è arrivato questo momento in cui io posso glorificarti in cui posso dire a te tutto l'amore che ho dentro nel cuore per te perché tu possa finalmente manifestare il tuo amore a tutti gli altri vedano quello che sto facendo io per glorificarti e imparino a glorificarti così nell'ora perché lo sappiamo bene è facile amare dio quando le cose vanno bene è facile amare dio quando le cose girano per il verso giusto c'è una bambina che mi ha mandato una domanda e io non ho ancora risposto ho detto che risponderò ormai dopo pasqua perché da finita questa riflessione io entrerò nel silenzio dopo la celebrazione della morte del signore di oggi pomeriggio ma questa bambina che mi dice perché gesù che vede morire tanta gente non li salva con un miracolo ecco noi vorremmo questa cosa questa cosa semplice dei bambini la tua ora che è quella della croce perché non salva tutti certo che salva tutti non come pensiamo noi probabilmente ma la sua ora è questa qui allora gesù dice io ti ho glorificato e ti ho glorificato perché ho dato a loro tutto quello che tu mi hai dato ho trasmesso a loro tutto quello che tu mi hai dato e questa è la vita eterna questa è la tua gloria che conoscano te l'unico vero dio è colui che hai mandato gesù cristo ecco che cosa è qual è il momento in cui noi riusciamo a capire che cos'è la vita eterna cosa ci sarà al di là della nostra esistenza terrena che cosa faremo nessuno di noi lo sa però da queste parole di gesù possiamo capire una cosa molto bella che la vita eterna sarà poter vedere a noi che piacciono i segni a noi che piace toccare ecco in quel momento potremo vedere potremo toccare potremo stare con dio quel papà che tante volte preghiamo e tante volte magari diciamo il padre nostro un po d'arrabbiati quel dio lì quel papà lì noi lo avremo nella vita eterna questa è la vita eterna per cui non c'ho bisogno di morire se io conosco gesù e conosco dio sono nella vita eterna quante volte si sente dire il paradiso è qua giù sulla terra certo il paradiso è qua giù sulla terra se noi conosciamo gesù e conosciamo il momento della sua gloria l'ora in cui ha manifestato pienamente la gloria di dio in quel momento noi abbiamo conosciuto dio anche oggi nella passione durante la celebrazione del pomeriggio diremo che il velo del tempio si squarciò nel mezzo era il velo che ci impediva di vedere dio di avere la vita eterna mosè non può vederlo i profeti non possono vederlo nessuno ha potuto vederlo chi ha potuto farci vedere questo Gesù ma non il Gesù che moltiplicava i panni e i pesci non il Gesù che faceva i miracoli no il Gesù in croce quando consegnò lo spirito al padre Gesù trasmise questa gloria questa vita eterna a noi e noi la possediamo e noi ce l'abbiamo perché noi conosciamo Gesù perché noi conosciamo Dio e se qualcuno di noi sta dicendo ma non è vero io faccio fatica non leggo il Vangelo provate provate non abbiate paura cercate di conoscere il Vangelo di conoscere Gesù un altro bambino al quale risponderò anche la settimana prossima perché le domande erano troppe mi diceva come facciamo a capire cosa dice Dio se non lo si sente non lo vediamo è certo vedete che i bambini ci arrivano noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi chi è Dio che ci faccia vedere qual è l'ora in cui noi possiamo incontrare Dio ci faccia capire qual è l'eternità a cui siamo noi destinati e questa è la croce vedete io ho il sorriso sulle labbra ma non perché io sia così bravo da vivere bene questa cosa ma perché sto imparando da san Giovanni della croce come non c'è niente di più grande che il crocifisso non c'è niente di più grande che stare lì con Gesù è scomodo fa male ma se ce la facciamo e lo accogliamo come un dono di Dio ci accorgiamo che questa è l'ora nella quale noi comprendiamo la salvezza comprendiamo la vita eterna e allora questa vita eterna che noi conosciamo e che è la consapevolezza di essere figli di Dio ci dà la possibilità di vivere bene non perché le cose vanno sempre bene ma perché abbiamo dentro nel cuore l'eternità noi non siamo destinati a fare le cose piccole di questo mondo noi abbiamo il cuore della vita eterna dobbiamo stare sulla croce e Gesù dice a Dio io ho custodito questi tuoi figli che mi hai dato e custodire vuol dire che li guarda lasciatemi passare questo questa parola li coccola è attento e guarda è vicino a loro e allora quando uno si sente così custodito il suo cuore va nella direzione di questa persona ma la domanda è il nostro cuore dov'è da che parte tira ci sono le persone di questo mondo a cui noi siamo legati profondamente che amiamo ma perché andiamo lì perché amiamo perché siamo disposti a morire per loro perché la croce diventa non il supplizio ma la bellezza di donare la nostra vita loro allora Gesù può dire padre custodiscili nel tuo nome tu hai il potere di donare questa gioia immensa questa eternità e qual è il risultato di questa consapevolezza che è giunta l'ora che l'ora ci trasmette l'amore di Dio che l'amore di Dio ci fa gustare l'eternità qual è la conseguenza è il dono dell'unità ti prego padre perché siano una cosa sola come noi due io in te e tu in me che siano una cosa sola con noi e questa comunità unità profonda cosa deve generare la gioia se non genera la gioia c'è qualcosa che non va tante nostre famiglie a volte sono in difficoltà su queste cose e vivono la loro esperienza di amore non nell'unità ma soprattutto nella gioia la vivono tante volte come un pese bisogna superare bisogna superare questo passaggio della croce solamente stando in croce si prova la gioia di appartenere a Gesù e la gioia di essere i figli di Dio capite perché tante volte la chiesa sembra andare controcorrente o retrograda quando sostiene certe cose quando sostiene che la fatica nell'amore è una cosa importante non c'è amore senza sofferenza non si ama non si non si ama se non si soffre è inutile e Gesù ha voluto amarci facendoci vedere come ci ama Dio come morendo dando la sua vita per noi e allora vorrei fare l'ultima osservazione Gesù dice io li ho custoditi tutti quelli che mi hai dato tranne il figlio della perdizione chi è il figlio della perdizione noi velocissimi l'abbiamo interpretato come Giuda è quello che l'avrebbe tradito è quello che l'avrebbe messo in croce la colpa era sua ma c'è un'altra interpretazione nel Vangelo di Giovanni il principale imputato del tradimento di Giuda non è Giuda ma è Satana dice San Giovanni è entrato nel cuore di Giuda Iscariota è lui il capo di questo mondo è Satana che aveva già nel suo cuore che Gesù tradisse e questo figlio della perdizione non potrebbe essere lui Satana non Giuda è stato il mezzo ma chi ha voluto la morte di Gesù in croce Satana perché era convinto di aver distrutto il figlio di Dio con la crocifissione e invece non ha vinto Satana nel momento in cui Gesù è morto Gesù ha sconfitto l'ultimo ostacolo alla nostra vita che è la morte che è il demonio noi non siamo più del demonio per il nostro battesimo quindi per essere stati in croce con Gesù noi siamo ordinati a vita nuova e quel momento lì della morte di Gesù è stata la nostra salvezza allora il figlio della perdizione non è Giuda ma è Satana è lui che vuole a tutti i costi distruggere questo mondo perché lui è il principe di questo mondo è il principe della menzogna è il principe della cattiveria della divisione tutte cose inverse a quelle che ha fatto Gesù sulla croce allora concludiamo con una cosa molto bella qual è il grande mistero che ci dice dove sta la luce e dove stanno le tenebre il mistero è chiarissimo le tenebre non possono amare la luce e l'egoismo ama ciò che è suo tutto il male del mondo tocca il cuore di Dio tutto l'odio del mondo lo porta addosso lui e lui vince tutto questo male tutto questo odio perché è il figlio amato infinitamente dal padre e Gesù si prende sulle spalle tutto questo allora vorrei concludervi con questa indicazione che mi ha scritto padre Davide di San Giovanni Crisostomo voi pensate San Giovanni Crisostomo non è dell'altro ieri è un padre della chiesa e dice così anche se uno è pieno di ogni malvagità e ha commesso tutte le colpe che lo escludono dal regno di Dio e questo tale non sia uno rimasto sempre infedele ma sia pure un cristiano e di quelli più cari al Signore e poi se è diventato colpevole di fornicazione di adulterio ladro ubriacone corrotto e corruttore violento e quanto altro si possa dire di brutto e bene io vi dico che neppure questo deve disperare anche se fosse giunto all'estrema vecchiaia carico di tanta orrenda indicibile malvagità Dio quando noi cadiamo in eccessi di pazzia dice fa tutto non già per vendicarsi ma per liberarci dalla malattia tale infatti è l'amore di Dio verso l'uomo che non rifiuta mai un sincero pentimento ma fosse pur uno giunto all'estremo limite della malvagità se poi volesse tornare sulla via della virtù Dio lo riceve e lo accoglie e fa di tutto per ricondurlo nello stato di prima ma c'è di più anche se uno non mostra pieno pentimento egli non rigetta neanche un pentimento non rigetta neanche un pentimento breve e scarso eppure a questo da grande ricompensa il valore della penitenza non si misura col tempo ma con la disposizione dell'anima abbiamo dunque bisogno soprattutto di coraggio e di buona disposizione non è infatti cosa tanto tremenda il cadere quanto il rimanere a terra senza rialzarsi chiudo con queste parole di san giovanni crisostomo vi ringrazio che mi avete ascoltato e mi auguro che abbiate fatto qualche momento di silenzio in questa settimana santa ecco l'annuncio è proprio questo da dopo la celebrazione di oggi pomeriggio suoneranno le campane poi ci sarà il silenzio neanche domani mattina io celebrerò la via crucis lascerò il silenzio fino a domani sera alle 20 quando inizierò la veglia pasquale voi in questo tempo pregate state davanti al crucifisso se volete abbiamo messo sulle panche della chiesa una bellissima via crucis che ho fatto anch'io stamattina e che ha come tema andrà tutto bene sono poche stazioni non sono 14 però sono molto belle vorrei invitarvi a celebrare bene la pasqua di quest'anno non ci vedremo in chiesa e questo è un rammarico grandissimo vi posso assicurare e l'ho sperimentato anche ieri sera nella messa nella cena del signore non è facile parlare con davanti nessuno vi prende un gruppo in gola perché siamo abituati a vederci a scambiarci gli auguri a stringerci le mani e non possiamo farlo ma la pasqua di quest'anno è molto più grande stiamo sulla croce di gesù perché quando scenderemo sarà una festa grandissima sarà la nostra risurrezione sarà la vita eterna che trasmetteremo a tutti buona pasqua